Da tutti chi vi parla è Claudio Sibbonico, la trasmissione è magia, stragonaria e paganesimo. Stiamo entrando nella seconda parte della trasmissione, come ogni giovedì, e come ogni giovedì ormai da alcuni mesi, riprendiamo quello che è il discorso sul crogiolo dello stragone. Allora, sapete benissimo che un conduttore di questa radio è Francesco, cioè di questa trasmissione di Francesco, e Francesco ci tiene in maniera importante di ricordarvi che il 4 settembre a Cittadella si terrà la manifestazione, la festa dei Veneti. Domenico 4 settembre a Cittadella, una giornata dedicata ai Veneti. Del Veneto lo potremmo usare in parecchie lingue, c'è stato uno scontro abbastanza pesante su decidere se la lingua italiana fosse la lingua toscana rivisitata da Dante o la lingua veneta rivisitata da Goldoni. Voi non ci crederete, ma il Goldoni veneto era paragonato a Dante, o meglio, cioè il suo peso a livello linguistico era allo stesso livello di Dante. Il dibattito continuò per un certo periodo finché alla fine vinsero i Toscani di Dante. Non fu un gran successo, o forse lo fu, non sta a noi certo giudicarlo. Certamente potremmo dire che la lingua veneta aveva un peso non indifferente, non tanto per la lingua in se stessa, ma perché fu una lingua parlata per molti e molti secoli dalla Repubblica Veneziana, la quale pescando i principi etici e morali delle antiche religioni e essenzialmente del paganesimo romano, riuscì a spezzare quelli che erano i legamenti, quello che erano le imposizioni della Chiesa Cattolica. Quali erano le imposizioni della Chiesa Cattolica? In pratica, la Chiesa Cattolica impose a tutti i commercianti di fede cristiana di commerciare soltanto ed esclusivamente con persone battezzate, altrimenti, diceva, bisognava rifiutarsi di commerciare. Il principio che ha preso in mano la Repubblica di Venezia, ma vale anche per la Repubblica di Genova, la Repubblica di Amalfi e quella di Pisa, poi le cose cambiarono chiaramente perché i livelli di forza vennero trasformati, fu che si commerciava con chi aveva onestà e dignità nel commerciare. Non ce ne fregava niente se fosse battezzato o non battezzato. Non vi sto a raccontare la storia del battesimo fittizio al fine di commerciare. È una storia abbastanza squallida con la quale praticamente truffarono, fecero fuori gli svedesi, i vichinghi, norvegesi. Percianto non voglio rinvangare questo, anche perché è un po' triste, ma voglio rinvangare il fatto che la Repubblica di Venezia decise che lei era Stato e come Stato i principi si prendono dallo Stato e non dalla religione dello Stato. E fu un'operazione molto importante perché a un certo punto si arrivò allo scontro. Si arrivò allo scontro tra il Papato, la Chiesa Cattolica e la Repubblica di Venezia. Lo scontro fu durissimo. Il Papato tentò di fare come aveva fatto con quell'imperatore tedesco, scomunicando la Repubblica di Venezia per costringere il Doge a supplicare pietà a Roma. Il Doge non si sottomise, ma cacciò da Venezia i gesuiti e tutti quelli che erano legati al Papato, i quali se ne andarono da Venezia a testa bassa e in atteggiamento mesto come se fossero degli esuli cacciati dalla città. Questo colpì molto i veneziani e ci furono anche dei tentativi di rivolta da parte dei veneziani per riportarsi in città questi poveri frati, questi poveri preti cacciati dalla Repubblica di Venezia. Visto questo la Repubblica di Venezia decise di aprire le chiese, fece aprire tutte le chiese e fece vedere ai veneziani come questa gentaglia criminale ed assassina si fosse allontanata da Venezia portandosi via oro gioielli che addornavano le chiese di Venezia. E da là partì uno scontro e con quello scontro la chiesa cattolica di Roma si spaccò letteralmente i corni. Venezia mise in ginocchio la chiesa cattolica di Roma. Ecco, se fosse da ricercare un episodio, una storia recente per la quale vale la pena di celebrare la festa dei Veneti, questo sarebbe un episodio importante e un episodio centrale. Ed è uno degli episodi per i quali io chiaramente sono appoggio Francesco pur chiaramente non essendo molto comprensivo nella sua follia, anche perché io ritengo che comunque la festa di Cittadella sia una festa abbastanza collaterale. Però Francesco ci tiene e siccome Francesco ci tiene è una festa importante, è una festa importante e invito tutti i Veneti, tutte le persone a partecipare alla festa di Cittadella. E particolarmente siccome Francesco mi ha detto alcune cosette in privato che mi ha chiesto anche di non riferire, invito tutte le persone ad arrivare anche abbastanza presto alla festa di Cittadella. Sì, lo so, ci sono stand, stand gastronomici, ci sono varie cose, il buon pane su internet, osteria di San Marco, cartaria commerciale, tutti sponsorizzano questa festa. In realtà ci sono anche degli stand gastronomici, però Francesco mi ha detto qualcosa altro. Mi ha detto che alla festa probabilmente ci sono anche delle iniziative culturali. Ora, sapete benissimo qual è la mia posizione generale, io vedo sempre con dubbio il fatto di resistenza di manifestazioni culturali in questo ambito, però potrebbe anche essere, anche perché Francesco è abbastanza sorgnone da non dirti certe cose che vorrebbe far intendere. Per cui io prendo atto della sorgnoneria di Francesco e so che Francesco intende partecipare alla sfilata, alla manifestazione di Veneti, so che intende fare tutte queste cose perché ci tiene in maniera particolare, però effettivamente mi ha indotto a invitarvi a partecipare alla festa di Cittadella, festa dei Veneti in cui sembra che ci siano anche delle novità, sembra che ci siano delle particolarità abbastanza interessanti dal punto di vista culturale. Naturalmente se magna, se beve, se fa festa, se sente la musica e quello che offre chiaramente è la festa in se stessa. Pertanto venite e se non avete altro da fare, se volete un'occasione per stare insieme, naturalmente non venite da Francesco a chiedere il prezzo degli hamburger o il prezzo dei panini o delle birre o di quello che viene offerto, però si mangia, si beve e si sta insieme. Oh Francesco, io penso di averti fatto abbastanza pubblicità, poi non venirti a lamentare con me. 4 settembre a Cittadella, festa di Veneti, siamo avanti fino a circa le 10 di sera, quando stanno a programma. Detto questo, in sintesi, proprio in colorale, vi ricordo che il 24 settembre si tiene il rito dell'equinozio d'autunno organizzato da Francesco, sempre. Perché? Perché io non ho tempo, il 24 settembre ragazzi, è tutto là. Bene, allora intanto l'appuntamento è per Cittadella e la vi invito effettivamente ad essere tutti presenti e dopo il 24 settembre ci ritroviamo al Bosco Sacro di Jesolo a celebrare l'equinozio d'autunno. Nella trasmissione di questa sera io vi devo parlare, dovrei incominciare il dibattito, sull'ascoltare le correnti vegetative. Ascoltare le correnti vegetative. Il termine è preso da mio vecchio grande maestro William Reich ed è un onore che gli faccio nel riprenderlo da lui. In realtà che cos'è? Nel crogiolo dello stregone, ascoltare le correnti vegetative. Proviamo a ricapitolare un attimino gli ultimi dibattiti che abbiamo fatto. C'è chi vi ho fatto per radio, c'è chi vi ho raccontato. Vi ho detto che si parlava di meditazione. La meditazione, a differenza di come viene usata da molte persone, è l'arte attraverso la quale noi che pratichiamo stregoneria e che dobbiamo tentare nei limiti del nostro possibile di farci capire, dobbiamo mettere ordine nella nostra ragione, nel nostro pensato, nelle nostre idee razionali con le quali trasmettiamo nel mondo, le nostre tensioni, le nostre emozioni. Meditazione dunque. Poi sono passato a un altro tipo di dibattito e vi ho parlato di contemplazione. Contemplazione è un'arte tutta ed assolutamente pagana politeista. Perché? Perché consiste nel concentrare l'attenzione su un oggetto esterno, riconoscendo in quell'oggetto esterno tutte le tensioni che ci attraversano. Ora, per riuscire a riconoscere in un oggetto esterno, che sia un albero, che sia una pianta, un animale, un pezzo di terra, una montagna o qualsiasi altra cosa, le stesse nostre tensioni occorre aver cambiato l'angolo con cui guardiamo il mondo. Cioè, è necessario che noi riconosciamo noi stessi come un frammento d'immenso nel quale siamo immersi. Noi siamo una parte di un tutto. Solo allora possiamo contemplare e solo allora possiamo riconoscere tutte le tensioni e tutte le visioni che attraversano quel tutto. Per cui tutti gli dèi e tutte le dèi, se volete usare questo termine, che attraversano tutto ciò che esiste, che formano tutto ciò che esiste. E questo è un modo di essere solo pagano politaista. Allora, se nella meditazione concentravamo la nostra attenzione sulla nostra ragione e sulle ragioni con le quali noi ci esponiamo davanti al mondo, se nella contemplazione noi spostiamo la nostra ragione su oggetti esterni a noi, Ascoltare le correnti vegetative significa spostare la nostra attenzione dentro di noi. Ed è un altro, ennesimo segreto della stregoneria. Io i segreti ve li dico, che me frega a me di rivelarvi o non rivelarvi i segreti della stregoneria. Io non ho nessun problema di rivelarvi i segreti della stregoneria. Perché solo le persone che hanno potere personale, capace di comprendere ciò che io sto dicendo, capace di interiorizzare ciò che io sto dicendo, e capace di trasformare se stessi e riversare questa trasformazione nell'oggettività in cui vivono, possono comprendere che quello che io dico sono delle cose di una certa importanza. A quel punto, se uno non ha potere, per riuscire a comprendere che quello che io dico può servirgli, posso dirgli tutti i più grandi segreti della stregoneria, ma per lui equivalgono esattamente a un Kalashnikov nelle mani di un individuo di 3 milioni di anni fa. Può avere un Kalashnikov in mano, ma lo può usare solo come un bastone. Per cui non serve assolutamente a niente. Per cui è inutile che io cieli i segreti della stregoneria, quando l'unico modo perché i segreti della stregoneria restano tali, è la quantità di potere che hanno le singole persone, di comprendere l'uso che di quei segreti ne possono fare. Io vi dico, la meditazione ci mette ordine nella ragione e diventiamo bravi a esporre le nostre idee. La contemplazione ci permette di riconoscere il mondo attorno a noi come vivente, ma ci permette anche di ascoltare in maniera attenta le persone che ci stanno attorno e noi diventiamo dei bravi ascoltatori. Faccio una parentesi, un inciso. In Spagna, tutti gli annunci economici di chi cerca partner, specialmente uomini che cercano delle donne come partner, nell'annuncio che fanno è capacità di ascoltare. Chiusa parentesi, rifletteteci fra voi. Il terzo elemento, ascoltare le correnti vegetative, significa portare la nostra attenzione dentro di noi. Cioè, far affluire nella nostra attenzione ciò che sta dentro di noi e che normalmente ignoriamo. Proviamo a fare un escursus giornalistico di ciò che è dentro di noi e di ciò che normalmente noi ignoriamo. Fatalità, ho dovuto fare un piacere a Francesco. Sapete che Francesco è molto insistente, qualche volta mi massacra. E mi ha detto, Claudio, per cittadella, mi raccomando, preparami qualcosa, ti prego. Insomma, massacrami oggi, massacrami domani, massacrami dopodomani. Anche io effettivamente ho dovuto cedere davanti a questa pesante insistenza di Francesco. E io ho preparato qualcosa che naturalmente a Francesco si riserva di farvi vedere a cittadella domenica. Però, nel fare questo, naturalmente io mi sono guardato un attimino la mia raccolta di articoli di giornale. E ho preso un pochi di articoli che sono anche abbastanza vecchi, che rappresentano anche una serie di trasmissioni che io vi ho già fatto. E allora, che cosa abbiamo dentro noi stessi? Cioè, cosa c'è dentro di noi? Noi, come siamo? Cosa abbiamo? Quali meccanismi funzionano dentro di noi? Vi ho già fatto alcune trasmissioni. Per esempio, dal 19-11-2004, dal giornale di venerdì di Repubblica, vi ho raccontato quel parassita che ci vuole far fare la fine di un topo. Vi ho parlato della toxoplasmosi. Il parassita della toxoplasmosi. Ah, per la miseria ho messo in lega la lingua. Il parassita della toxoplasmosi. Che si impossessano delle persone entrando in quei gangli cerebrali capaci di controllare le persone e di far fare alle persone certe azioni anziché altre. Cioè, costringe le persone a fare quelle azioni perché costringe le persone a dare una valutazione della situazione oggettiva in cui le persone si muovono che sia funzionale al battero, al virus della toxoplasmosi e non alle persone. Bene, questo esperimento è stato fatto sui topi e nell'analisi degli effetti della malattia della toxoplasmosi che attacca i topi si è visto che questo battero si installa nel cervello all'interno di un ganglio che porta a costruire il giudizio da parte del topo sulla pericolosità della situazione che il topo sta per affrontare. Anziché il topo allarmarsi per la situazione pericolosa va alla ricerca di questa situazione e cerca di farsi mangiare dal gatto. Cioè, praticamente abbassa tutte le sue difese per farsi mangiare dal gatto. Perché questo? Perché il battero, il virus, quello che è la toxoplasmosi si riproduce all'interno dell'intestino, all'interno del corpo del gatto. E l'unico modo che ha questo batterio per riprodursi è quello di occupare il cervello del topo per riuscire a farsi mangiare da un gatto. Rifletteteci un attimo e poi riflettete su cosa fa il cristianesimo rispetto alle persone. Si introduce nei gangli emozionali delle persone affinché le persone si suicidano. Ma noi abbiamo spostato la nostra attenzione dentro noi stessi? Noi sappiamo cosa abbiamo dentro noi stessi? Noi riusciamo a scendere razionalità ed emotività? Quando vi ho parlato della meditazione vi ho detto si prende un elemento del nostro pensato lo si rallenta lo si ferma un attimo e si trasferisce su di esso le nostre tensioni le nostre emozioni lo si analizza in se stesso si analizza da dove quell'elemento che noi pensiamo lo abbiamo tratto e si analizzano gli elementi che vengono a variare qualora che noi quella cosa che pensiamo la traduciamo nell'oggettività. Vi ricordate questo? Se il batterio della toxoplasmosi si impossessa del nostro cervello e ci costringe ad essere imprudenti usiamo questo termine o comunque a fare delle azioni che sono contrarie ai nostri interessi la ragione come può intervenire? Può intervenire attraverso la meditazione cioè bloccando la nostra struttura emotiva in base ai suoi interessi. Provate un po' a pensare se invece il batterio della texoplasmosi è solo il cristianesimo che si impossessa di ingaglie e che ci porta a distruggere la nostra vita del corpo fisico in funzione dell'esaltazione del Dio dei cristiani e noi non siamo in grado nemmeno di controllare la nostra ragione per impedire questa distruzione. vorrei anche viceversa vi l'ho già detto nella meditazione rifletteteci un pochino comunque questo è un meccanismo del virus della toxoplasmosi accidenti che fatica che esistono anche per una formica addirittura per controllare una formica un battere adesso non mi ricordo più il nome però l'ho visto nel libro di Celli addirittura si mettono in sette batteri per controllare sia gli arti che il cervello e riuscire a mettersi in punta del filo dell'erba che può essere mangiato dalla mucca perché quel battere può riprodursi soltanto nella pancia della mucca e quando la formica viene mangiata dalla mucca l'unico battere che muore è quello che si è impossessato dal cervello tutti gli altri si riproducono questo è un meccanismo sul quale agisce il cristianesimo però noi abbiamo spostato l'attenzione dentro di noi lo abbiamo individuato andiamo avanti dentro di noi il cervello produce la morfina questo è da Salute di Repubblica del 14 ottobre 2004 la morfina viene prodotta dal cervello la scoperta fatta in contemporanea da scienziati tedeschi ed americani potrà rivoluzionare le cure per il dolore e il concetto stesso di tossicodipendenza finisce così un diatriba decennale della comunità scientifica incerta fino ad oggi sull'esistenza o meno del cervello della morfina il ricercatore dell'università tedesca Martin Lutero Martin Lutero Al Wittenberg guidati da Meinhard Zenk hanno osservato senza ombra di dubbio che cellule cerebrali umani hanno sintetizzato in proprietà tracce evidenti di morfina la maggior parte dei scienziati spiegava l'eventuale morfina ritrovata in tessuti umani come il residuo di morfina assunta in pratica si è scoperto che noi possiamo produrre degli inibitori dei recettori del dolore cosa vuol dire questo? vuol dire che questi strumenti sono a nostra disposizione e che noi li possiamo usare o li possiamo accelerare sono dentro di noi ma la nostra attenzione l'abbiamo spostata dentro di noi proviamo ad andare avanti ancora il sonno porta le idee migliori ecco le regole d'oro per dormire un italiano su cinque ha difficoltà di riposare il 14% è insonne attenzione attenzione se il sonno porta a noi le idee migliori noi abbiamo spostato la nostra attenzione dentro di noi al fine di farle uscire chi vi ha insegnato a fare questo? qualcuno ve l'ha forse parlato? rifletteteci andiamo avanti ancora caccia alla formula dell'anti ansia oh bene piccole paure quotidiane in Italia soffre l'8% così si combattono questo è un articolo del 25 febbraio 2005 della Repubblica spostiamoci un attimino in un altro tempo il 23 gennaio 2003 la salute della Repubblica che ci dice se l'ansia è a giuste dosi già se l'ansia è a giuste dosi è una stimolazione per la persona cosa c'è che non va in tutto questo? ci abbiamo spostato la nostra attenzione dentro? quando noi siamo in stati d'ansia quell'ansia ci porta ad affrontare la vita a trasformarci a manipolarci a sciorrinare quelli che sono i problemi della nostra esistenza oppure un'ansia che si è interiorizzata al punto tale da rattrappire da bloccare da trasformarsi in paura l'ansia la paura il terrore che si impossessa del passone oppure l'ansia che ci spinge a modificarci a costruire noi stessi e costruire le nostre strategie di esistenza cosa c'è che non va in tutto questo discorso? è che il meccanismo dell'ansia è sempre lo stesso siamo noi i padroni del nostro meccanismo dell'ansia o è il meccanismo dell'ansia che si è impadronito di noi stessi e noi impotenti guardiamo davanti alla vita guardiamo davanti al mondo guardiamo davanti a una quotidianità che ci travolge che ci uccide ma abbiamo ascoltato noi stessi prima abbiamo spostato la nostra attenzione dentro di noi andiamo avanti ancora anche perché parlare di correnti vegetative è una delle cose più grosse della stregoneria 18 febbraio 2005 la Repubblica ecco la sede del sesto senso nel cervello un sistema di allarme la scoperta di studiosi americani pubblicata su Science Roma il sesto senso esiste e risiede nel cervello in una regione fra i due emisferi la scoperta ha riportato la rivista Science e degli scienziati della Washington University a St. Louis e indica come la sede del sesto senso la corteccia cingolata anteriore qui risiede un sistema di allarme che ci avverte quando qualcosa non va o quando qualche nostra azione potrebbe compromettere la nostra incolumità ha spiegato Joshua Brown si tratta di un circuito che ci dà informazioni per aggiustare la rotta ai nostri comportamenti e metterci a ripardo i pericoli la scoperta può avere svolte in ambito psichiatrico eccetera 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 ma perché quel meccanismo funzioni è necessario che noi siamo in grado di spostare la nostra attenzione dentro di noi se noi non siamo in grado di spostare la nostra attenzione dentro di noi anche se quel meccanismo si mette in moto lo riteniamo solo un folle un fastidio una cosa che non ha senso da ascoltare lo stesso articolo lo troviamo anche sulla Repubblica sul Salute della Repubblica del 10 marzo 2005 non cambia assolutamente niente proviamo a spostare un attimino ancora nostra attenzione su un articoletto del Gazzettino del 14 gennaio 2003 e dice fotografata l'area dove nasce il sentimento il professor Dinelli ma la nostra mente è molto di più quando ci emozioniamo il cervello diventa rosso allora prima di leggervi l'articoletto cosa significa questo? quando ci emozioniamo il cervello diventa rosso a me non mi interessano le bande di colore che usano gli scienziati per l'analisi cioè psicoscienziati per l'analisi mi interessa solo questo che quando le emozioni cominciano a invadere le varie parti del cervello cambia l'attività fisiologica del cervello e quando cambia l'attività fisiologica del cervello voi sapete che il cervello è plastico il cervello si modifica si costruiscono nuovi collegamenti neuronali nuove strutture sinapsiche per cui quando noi ci emozioniamo c'è un cambiamento nella struttura fisica del nostro cervello ed è una cosa che noi possiamo usare a nostro vantaggio andiamo avanti a leggere l'articoletto del cervello del cervello ormai si sa di tutto e di più non è vero si saprà ancora di più fra qualche giorno non passa giorno che in qualche parte dell'emisfero non ci sia uno scienziato che crede aver alzato il velo sull'ultimo mistero della mente umana lì nasce la capacità di voler bene l'acqua e la di saper ridere in quell'angolino matura l'ira nell'altro la passione l'ultimo annuncio è di ieri e a darlo a un gruppo di scienziati dell'agente di university in belgio che hanno fotografato grazie a una speciale tecnologia il cervello di alcune persone impegnate a tradurre le emozioni racchiusi in diversi messaggi secondo i scienziati si è così scoperto che quando le persone erano impegnate ad interpretare il significato di quello che veniva detto aumentava sensibilmente la flusso di sangue nell'emisfero sinistro ma se l'attenzione si spostava verso il tono usato ad accelerare era il flusso sul lato destro la scoperta potrebbe potrebbe spiegano gli addetti ai lavori aiutare i neurologhi a comprendere i problemi che affigano i pazienti che hanno subito lesioni cerebrali è riduttivo fare un automatismo fra la funzione e il fatto che l'aria in questione diventi rossa sottolinea il professor Umberto Dinelli docente universitario di psicologia di psichiatria ad Udine il cervello è una struttura estremamente complessa che ha aree vicarianti quanto ad esempio quando ad esempio si verifica un ictus il cervello ha solo bisogno di tempo per recuperare l'area danneggiata e mettere in funzione un'altra parte la biologia e scienza complessa già dal 1800 gli scienziati hanno canalizzato i loro sforzi per costruire la geografia del cervello ma non dobbiamo dimenticare che esiste anche una storia che è fatta di coscienza sensibilità etica concetti morali e tutto questo porta a tracciare la mappa complessa del cervello pensare di conoscerlo tutto anche se a piccoli frammenti volta per volta e quindi pure illusione perché il nostro cervello resta sempre sconosciuto anche perché nel momento in cui ad esempio stiamo parlando lo stiamo modificando non sta mai fermo se è giusta pensare di scoprirlo è come correre dietro all'orizzonte non lo si raggiunge mai spesso quindi le scoperte finiscono con l'avere più che un senso pratico un valore di puro studio ci sono macchine che hanno costi esorbitanti e che è bene che trovino in loro utilizzo oltre che per la diagnostica anche per la ricerca spiega di Nelli per quella ricerca che forse domani non ci cambierà la vita ma ce la renderà migliore dopo domani in pratica non è altro che questo cioè è la scoperta della plasticità del nostro cervello dovuta alle nostre emozioni ma se noi abbiamo spostato l'attenzione dentro di noi queste emozioni le possiamo usare per nostro beneficio e possiamo sfruttare per nostro beneficio anche il cervello che si modifica in funzione delle nostre emozioni bene e allora tanto per concludere un pochino andiamo all'ultima no penultima non è l'ultima scoperta una scoperta tutta veneta questa la potremmo anche portare alla festa dei veneti no psicologia il risultato di una ricerca che ha coinvolto meggi infermieri futuri genitori il veneziano Pierluigi Righetti ha riportato il suo lavoro in un libro non c'è due senza tre scoperta tutta veneta il feto a vita psichica lo sperimentatore una volta si parlava di psiche solo dopo il parto il nascitore invece sa e capisce molte cose la personalità si informa già prima della nascita ed esisterebbe un vero e proprio io lui Pier Giorgio Righetti finora non ha fatto altro che ripetere quello che la ricerca ha prodotto il nostro esperimento è stato unico in Europa con precise procedure e metodi siamo riusciti a descrivere e documentare le competenze psicofisiche e dei motivi della nascitura e quindi superare alcune teorie che ritengono che la nascita psicologica avvenga dopo il parto praticamente cosa ci ha detto questo Righetti ha detto che il suo lavoro di sperimentazione ha dimostrato che già nella pancia della madre esiste un input esiste un imprimatur esistono dei caratteri fondamentali per il futuro nascituro la psiche del futuro nascituro si formano già nella pancia della madre e dal 4-4-2002 dal gazettino cosa ricaviamo la vita del feto è densa di emozioni che influenzano l'umore della madre ora attenzione nel 30-3-2002 scopriamo che il nascituro ha una vita psichica il 4-4-2002 sempre il gazettino ci dice attenzione la psiche del nascituro influenza quella della madre allora aggiungiamo ancora noi la psiche della madre influenza la psiche del nascituro ma la madre non è un oggetto al di fuori delle condizioni delle contraddizioni la madre è un soggetto che vive una società vive contraddizioni vive conflitti vive condizioni di esistenza dunque la madre vivendo quelle condizioni di esistenza trasmette al nascituro i propri conflitti e attraverso i propri conflitti dall'imprimatur alla psiche del nascituro ma la madre non vive dei conflitti sulla luna o su ganimede ma vive dei conflitti nella società nella quale noi stiamo vivendo pertanto l'imprimatur della psiche del bambino è data dai conflitti della società nella quale stiamo vivendo che l'impone sul bambino è chiaro questo venire meno da parte delle persone di affrontare le contraddizioni nella società nella quale vivono significa distruggere la capacità del bambino di costruire se stesso andiamo avanti tanto per capire cosa può servire spostare l'attenzione dentro di noi ascoltare le correnti vegetative e così dal 17 luglio 2004 da venerdì di repubblica ma fu pubblicato anche su molti altri giornali dobbiamo digerire anche questa nell'intestino c'è un altro cervello questo articolo ve l'ho già fatto ve l'ho già fatto in altre situazioni per piegarvi come facevano le streghe o come facevano gli uomini antichi per sapere che quell'erba gli faceva bene o non gli faceva bene cioè non è che andassero là come le cazzate che sparano i cristiani o monoteisti per sperimentare l'erba se ne mangia un pezzettino vede se gli fa passare il mal di pancia magari ne sperimenta un'altra un'altra ancora quando uno c'ha il mal di pancia non è che gli frega niente da fare gli esperimenti vuole solo che il mal di pancia gli passi pertanto o sa o non sa in realtà noi dentro lo stomaco abbiamo questo cervello se noi spostiamo la nostra attenzione l'attenzione dentro di noi noi costruiamo le empatie fra noi e il mondo in cui viviamo per cui sappiamo immediatamente cosa ci può far bene o cosa non ci può far bene cosa ci può far bene o cosa ci può uccidere davvero pensate che se non ci fosse stato questi meccanismi gli uomini antichi chi li faceva fare potevano benissimo scambiare un'uva di volpe con non so con una bacca mangiabile oppure una dulca amara con un'erba comestibile in realtà pur non avendo una cultura che gli dava le informazioni di tipo erboristico avevano una conoscenza che era data dal cervello dentro di loro che sapevano ascoltare pertanto quando io vi parlo delle correnti vegetative vi parlo effettivamente di spostare l'attenzione dentro di noi esiste un problema che la stregoneria ha affrontato e che io affronterò anche nel leggervi il discorso sull'ascoltare le correnti vegetative e io non sto parlando a dei bambini che crescono adesso e che vivono in un'isola o che vivono sulle montagne o che vivono nel deserto o che vivono non so nei campi o nelle vaste praterie io sto parlando a un individuo che vive nel 2005 all'interno delle società civili italiane esattamente nel Veneto essenzialmente e questo personaggio a cui io sto parlando è normalmente un personaggio adulto cioè un personaggio che ha subito tutto il condizionamento educazionale monoteista e che ha alzato delle serra cinesche fra sé e il mondo che lo circonda per cui anche se la scienza mi dà tutta una serie di informazioni per dirmi guarda tu hai a disposizione questi meccanismi io non posso alzare la bacchetta magica e dire alle persone questo meccanismo tacte questo meccanismo tacte no io devo dare alle persone la prospettiva di risvegliare dentro di sé quei meccanismi ma per risvegliare dentro di sé quei meccanismi le persone devono fare tutto un lavoro di trasformazione e io non posso imporre alle persone il lavoro di trasformazione però posso portare posso presentare loro la prospettiva per la quale vale la pena di fare quei lavori di trasformazione è chiaro che la mia amica Anna Maria tanto per fare un esempio che lei fa massaggi ascoltando il crogiore lo stregone nel far massaggi ha una serie di intuizioni quelle intuizioni la rendono estremamente abile nel fare i massaggi nel comprendere le persone però è perché lei ha un'attività cioè lei è un'attività che ha fatto per molti anni e ha sviluppato delle necessità soggettive ma io non posso chiedere a tutte le persone di fare delle attività sistematiche di svilupparle per decenni di appassionarsi a queste cose sperando di avere dei risultati che poi non sono neanche i risultati che loro immaginano e sono risultati diversi perché ognuno di noi ha una risposta diversa davanti alle solitazioni del mondo per cui io posso dare le prospettive io posso dire quali sono i meccanismi dentro di noi ma la magia l'arte della stragonaria è una cosa che appartiene al singolo individuo alla sua volontà al suo modo di affrontare il mondo al suo modo di penetrare il mondo in cui noi viviamo al suo modo di avvolgere il mondo anche se è sempre una penetrazione in realtà però io non posso dire cosa una persona deve o cosa una persona non deve fare esattamente come non posso manifestare una verità da raggiungere perché il cammino è sempre una trasformazione soggettiva non è mai io dico che tu devi arrivare là non esiste un là per me esiste quel là ma ciò che è importante sono i meccanismi del cammino non sono gli obiettivi gli obiettivi poi cambiano da persona a persona da interessi a interessi da prospettive diverse a prospettive diverse per cui la stragonaria porta alla trasformazione delle persone non porta ad una verità dichiarata andiamo ancora avanti beh ecco come si rigenera il cervello questo ve l'ho già fatto perché è un'altra scoperta di quello che è la psicologia la neurologia normale bene siccome ormai siamo a 19 52 e ormai vi ho elencato tutta una serie di motivi per cui è importante che noi spostiamo la nostra attenzione dentro di noi bene tanto il dibattito oggi come oggi non lo affronteremo lo affronteremo fra 15 giorni perché io il prossimo giovedì non ci sarò allora parliamo dell'appunto delle correnti vegetative che sono a monte del dibattito che facciamo uno studio appena pubblicato agosto 2003 su psicosomatic medicine da ricercatori di Pittsburgh guidati da Carinj Mellon ha dimostrato statisticamente che le persone con un atteggiamento positivo nei confronti della vita si ammalano meno quando attaccate dai virus selezionati dei campioni di persone si è visto che somministrando dei virus responsabili del raffreddore coloro che avevano un atteggiamento positivo nei confronti della vita si ammalavano di meno che cosa avevano diverso le persone che vivevano in maniera positiva le correnti vegetative che le attraversavano e che alimentano i loro interessi e le loro tensioni interessi vivi e tensioni vive che si manifestano nel mondo oggettivo nell'insieme della vita quotidiana permette alle persone a parità di vita economica di essere maggiormente corazzate nei confronti degli attacchi virali le correnti vegetative possono essere percepite anche come velocità di scarico della propria energia vitale la quantità dell'energia vitale che scorre dentro di noi è data dalla quantità di volte nelle quali noi vivendo per sfida abbiamo compattato noi stessi sviluppando l'equazione tensione calica scarica e rilassamento e vi ricordo che tutto il dibattito delle correnti vegetative è un omaggio che io faccio a uno dei miei maestri che è William Reich bene io penso di avervi fatto una buona introduzione al dibattito al discorso sulle correnti vegetative che svilupperemo fra 15 giorni il numero di telefono sono 049 600 700 e 049 700 838 intanto se arrivo o non arrivo il telefonato io ho solo 5 minuti di tempo Stefano lo vedo già in atrio che stava aspettando vi leggerò qualche notizia stampa anzi no non vi leggo nessuna notizia stampa ma vediamo un attimo pronto ascolta ma detto finio di dire monade ciao bellissimo mio amore è che molte persone sono innamorate di me e allora ogni tanto mi telefonano e usano un linguaggio un po' sapete mai i cattolici li hanno insegnato quello e solo quel linguaggio allora io vi leggo qualcosa da un mio amico che si chiama William Reich e cosa vi leggo da William Reich William Reich ha scritto un libro ultimamente che si intitola un terribile amore per la guerra e cosa dice William Reich ciao Stefano vieni pure fai tranquillo a pagina 223 la psicologia del monoteismo ebraico differisce radicalmente da quella cristiana smettendo il trattino che vorrebbe fonderle insieme una religione giudaico-cristiana la forsennata in tolleranza del dio biblico fu temperata attraverso centinaia di anni e centinaia di migliaia di pagine di interpretazione e commentari che hanno infuso nel letteralismo il lievito dei significati metaforici e mistici del più livelli proviamo un attimino pronta si ho detto William Reich ho detto William Reich eh si eh cosa dobbiamo fare ormai a questa ora sto andando in uve da tonde tu pensa che io sono sveglio da oltre 36 ore non importa non importa no eh siamo capito l'ho fatto la notte l'ho fatto il giorno non dormire niente stavolta forse dormirò guarda noi siamo capito sei dopo ciao tesoro ok tutto a posto ciao 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 si in effetti sono sveglio ormai da un giorno e mezzo ed è ora che che vado a letto ho un po' qualche difficoltà no eh James Signia Ilman un terribile amore per la guerra un attimino pronto prima di parlare latin parla italian che è semplice ciao coiunazzo eh vedete le persone quando non sanno cosa dire parlano della forma e perdono di vista tutto ciò che gli si può dire la forzenata e intolleranza al dio biblico fu temperata attraverso centinaia di anni e centinaia di migliaia di pagine di interpretazioni e commentari che hanno infuso nel letteralismo il lievito dei significati metafolici mistici e a più livelli l'ebraico biblico consiste di gruppi e di consonanti privi di vocali e sicché un testo può sostenere connotazioni diverse fra loro favorendo l'incertezza e una ricca oscurità anche la punteggiatura manca tutti questi fattori consentono un'incredibile libertà di fantasia erbeneutica e un'abitudine a sottolizzare sottilizzare che a volte può sembrare quasi comica la monosemia letteraria diventa semplicemente una fantasia tra le altre e questo appartiene a quello che è l'esegi biblica lo spirito bellicoso d'antico giudaismo si andò stemperando e frammentando nella diaspora del popolo ebraico e nelle dispute erudite fino al re rival letteralistico dell'ebraismo ortodosso in israele quello spirito tuttavia trovò un'altra sede quando la bibbia fu trasferita nel mondo cristiano e definita il vecchio testamento la bellicosità dei profeti dei giudici andò a far parte della nuova religione cristiana come anche della nuova religione dell'islam la quale a sua volta incorporò figure e motivi biblici del corano per esempio l'immagine del popolo schierato a battaglia nella sura 61 l'appropriazione della bibbia ebraica senza il temperamento prodotto da secoli di analisi rabbiniche favorì nelle nuove letture un letteralismo più combattivo in contrasto con il letteralismo cristiano secondo un sondaggio condotto nel 1990 negli Stati Uniti soltanto il 14,2% di coloro che si dichiaravano ebrei considerava la bibbia la parola di Dio in senso letterale fra i cristiani invece troviamo un 90% che crede per esempio nella immacolata concezione idea tramandata secondo Hans Kung un noto teologo e studioso cattolico da un insieme di racconti per lo più di origine incerta spesso contradditori e sovente favoristici il fatto di considerare gli eventi narrati della bibbia alla stregua di leggende miti e favole o come racconti esemplari che insegnano verità sulla vita apre la mente alla speculazione immaginativa erodendo la fede della bibbia intesa come rivelazione delle vere parole del suo Dio come si fa a marciare la guerra in nome di una favola invece la verità marcia aranghi serrati ammazza le persone costruisce cambi di starminio e infila ferri roventi nel culo delle persone questa è una mia conclusione tratta da James Hillman un terribile amore per la guerra e vi do appuntamento per giovedì prossimo su queste onde con Francesco che vi parlerà di magia stregoneria paganesimo e forse anche di quello che è successo a Cittadella ciao a tutti e a risentirci grazie a tutti grazie a tutti